Ben ritrovati ragazzi! In questa edizione speciale di Newspaper History si parlerà del risorgimento e dell'unità d'Italia. Siete pronti? Iniziamo quindi dalla parola chiave risorgimento. Il risorgimento è il periodo che inizia con i moti del 1820 e 1821 e che conduce all'unità d'Italia del 1861. Risorgimento perché l'unità d'Italia rappresenta la liberazione dal dominio straniero e quindi il suo risorgere. Chi sono dunque i protagonisti del risorgimento? Alcuni li abbiamo già conosciuti, ricordate? Eccoli in breve. Giuseppe Mazzini, Genova 1805, Pisa 1872. Partecipa alla carboneria. E per questo è costretto all'esilio. Fonda la giovane Italia e la giovine Europa. Carlo Alberto di Savoia, Turino 1798, Oporto 1849. È il re di Sardegna. Guida la prima guerra d'indipendenza e promulga lo Statuto Albertino nel 1848, che sarà la prima costituzione del Regno d'Italia. Camillo Benso Conte di Cavour, Torino 1810, Torino 1861. È presidente del Consiglio e ministro delle finanze del Regno di Sardegna. Vuole la separazione della Chiesa dallo Stato, libera Chiesa e libero Stato. Rende più moderna l'economia del Regno attraverso libero commercio, grandi opere di bonifica e nuove banche. Partecipa alla guerra di Cremea e dà inizio alla seconda guerra d'indipendenza. Re Vittorio Emanuele II, Torino 1820 e Roma 1878. È figlio di Carlo Alberto. Diventa re di Sardegna nel 1848. È comandante supremo nella seconda e terza guerra d'indipendenza. Sarà il primo re del Regno d'Italia nel 1861. Giuseppe Carivaldi, Nizza 1807, Isola di Caprera 1882. Condivide gli ideali di Mazzini e partecipa alla giovane Italia. Per questo verrà esiliato. Combatte per la libertà in Sud America e viene denominato quindi eroe dei due mondi. Organizza e guida la spedizione dei Mille che porterà all'unità d'Italia. Una curiosità sull'inno d'Italia. Goffredo Mameli e Michele Novaro sono entrambi patriotti del Risorgimento Italiano. Goffredo Mameli è lo scrittore del testo Il Canto degli Italiani, conosciuto oggi come Fratelli d'Italia e Inno d'Italia. Michele Novaro è colui che ha musicato nel 1847 il testo scritto da Mameli. All'estero invece come protagonista troviamo Napoleone III che stipulerà gli accordi di Plombier nel 1858 con Cavour. Gli eventi principali che caratterizzano questo periodo sono le tre guerre d'indipendenza e la spedizione dei Mille. La prima guerra d'indipendenza va dal 1848 al 1849. Milano chiede aiuto a Carlo Alberto di Savoia per cacciare gli austriaci. Il re dichiara guerra all'Austria e l'esercito piemontese viene sostenuto da re di Napoli, il gran duca di Toscana e il papa, che però alle prime difficoltà ritirano i loro soldati. Anche Carlo Alberto chiede una tregua. Un anno dopo il re riprende la guerra, ma è nuovamente sconfitto. Abdicherà in favore di Vittorio Emanuele II, il nuovo re di Sardegna. La seconda guerra d'indipendenza, che va da aprile a luglio 1859. Cavour, dopo aver aiutato la Francia nella guerra di Crimea tra Inghilterra, Francia, Turchia contro l'impero russo, guadagna il diritto di partecipare al tavolo dei vincitori nel congresso di Parigi del 1856, durante il quale si dedica un'intera giornata al problema dell'indipendenza italiana. Cavour firma gli accordi segreti di Plombier nel 1858 con l'imperatore francese, che si impegna ad aiutare il Piemonte nel caso l'Austria dichiari guerra. Cavour provoca l'Austria inviando reparti dell'esercito sui confini. L'Austria reagisce come aveva previsto Cavour, da un ultimatum. O l'esercito sarà allontanato dai confini o inizierà la guerra di Crimea. Il re Vittorio Emanuele II e Cavour respingono l'ultimatum. Nel 1859 inizia la seconda guerra di indipendenza. Dopo molte vittorie, però, Napoleone si preoccupa che il regno di Sardegna diventi troppo potente. Perciò, senza informare il re Vittorio Emanuele II, firma una tregua con l'Austria, l'armistizio di Villa Franca. Alla fine della guerra, il regno di Sardegna conquista la Lombardia, ma non il Veneto, mentre i francesi vanno Nizia e Savoia. Nel 1860, Toscana, Emilia e Romagna scelgono con un plebiscito, cioè con un voto popolare, di unirsi al regno di Sardegna. La spedizione dei Mille Dopo la seconda guerra di indipendenza, il regno di Sardegna ha unito al suo territorio importanti regioni dell'Italia centro-settentrionale, ma non ha ancora la parte meridionale e la Sicilia. Questo succederà grazie all'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Infatti, la notte tra il 5 e il 6 maggio 1860, 1070 volontari, i cosiddetti Mille guidati da Giuseppe Garibaldi, salpano da quarto in Liguria, su due piroscafi, il Piemonte e il Lombardo. Dopo aver fatto scalo a Talamone per rifornirsi di armi, raggiungono Marsala l'11 maggio 1860. L'esercito dei Borboni è colto di sorpresa e, dopo una sanguinosa battaglia a Calatafimi, i Mille riescono ad arrivare a Palermo, appoggiati da migliaia di siciliani, soprattutto contagiati. In alcuni casi, come a Bronte, i Garibaldini si trovano a combattere contro i contadini, che chiedono i diritti sulle terre. In generale, però, i Mille proseguono senza particolare difficoltà fino a Napoli. Intanto Cavour, inizialmente contrario all'espedizione, decide di inviare l'esercito piemontese dal nord per aiutare Garibaldi e per controllare che non prendesse troppo potere. Il 26 ottobre 1860, a Teano, avviene il famoso incontro in cui Garibaldi consegna le terre conquistate a Vittorio Emanuele II. Il 17 marzo 1861, il Parlamento di Torino proclama il Regno d'Italia con a capo Vittorio Emanuele II e con capitale Torino. Un nuovo Stato di 22 milioni di abitanti nasce in Europa. Tre mesi dopo, a giugno, muore Cavour. Anche la Germania, esattamente dieci anni dopo, nel 1871, raggiunge l'unità. La terza guerra d'indipendenza, d'aprile ad agosto 1866, cioè dopo l'unità. Per il completamento dell'unità d'Italia mancano Veneto, Lazio, Trentino e Frioli. Per raggiungere questo obiettivo è necessario un forte alleato. Nell'aprile 1866, Italia e Prussia stipulano un accordo che prevede la guerra contro l'Austria, ottenendo in cambio il Veneto. L'Italia, alla fine della guerra, ottiene il Veneto, ma Trento e Trieste restano all'Austria. Vediamo nel dettaglio che cosa succede. La terza guerra d'indipendenza italiana si svolge nel 1866 e vede l'Italia allearsi con la Prussia nel conflitto contro l'Austria. Con la proclamazione dell'unità, il 17 marzo 1861, nasce lo Stato italiano. Vittorio Emanuele II, infatti, diventa il re degli stati italiani che fino a quel momento erano stati dominati da altre monarchie. Il Veneto e Roma, tuttavia, restano esclusi dall'unificazione a causa della presenza dell'Austria nel nord Italia e di quella papale sui territori romani. La Prussia, Stato tedesco, essendo a conoscenza delle tensioni provocate dalla presenza austriaca in Veneto, cerca nel governo italiano un alleato contro l'Austria. Quest'ultima, infatti, rappresenta per entrambi i paesi un ostacolo alla completa unificazione. L'8 aprile 1866, il presidente del Consiglio, Alfonso Lamarmora, stipula un accordo con Otto von Bismarck, primo ministro prussiano, con cui si impegna ad appoggiare la Prussia in caso di guerra contro l'Austria. L'Austria si rende presto conto del pericolo e propone la cessione del Veneto per via amichevole. Lamarmora temporeggia. Egli si trova di fronte a una scelta difficile. Decidere di non appoggiare più la Prussia o combattere la guerra contro l'Austria. Il 12 giugno la Prussia, che al contrario non attende, rompe i rapporti con l'Austria e dopo quattro giorni invade alcuni suoi territori. L'Italia prende parte alle ostilità a partire dal 23 giugno. L'esercito italiano viene diviso in due parti, rispettivamente capeggiate da Vittorio Emanuele II, affiancato dalla Marmora, e dal generale Enrico Cialdini. I generali escogitano un piano d'attacco basato su due interventi militari separati, in due zone diverse del Lombardo-Veneto. Tuttavia, le difficoltà di comunicazione e coordinamento tra i due schieramenti indeboliscono l'azione della Marmora, che il 24 giugno subisce un'importante sconfitta presso Custosa, in provincia di Verona. Il 20 luglio l'Italia riceve un altro duro colpo presso l'isola di Lissa, lungo le coste della Dalmazia. Qui il generale italiano Carlo Persano viene attaccato e successivamente sconfitto dalla flotta austriaca presente sull'isola. Nel frattempo, le truppe volontarie del generale Giuseppe Garibaldi, a cui erano state affidate le azioni militari in Trentino, stanno ottenendo importanti vittorie sull'esercito austriaco. Tuttavia, l'8 agosto il governo impone a Garibaldi di ritirarsi dal Trentino. A malincuore Garibaldi risponderà al governo con il celebre «Obedisco». La pace viene firmata a Vienna il 3 ottobre 1866 e gli accordi prevedono la consegna del Veneto, ma non del Trentino, all'Italia. L'Italia, alla fine della guerra, si trova arricchita di una nuova provincia, facendo un ulteriore passo sulla via della completa unità nazionale. Ma dopo l'unità d'Italia esistono ancora dei problemi da affrontare, di cui parleremo nel prossimo video. Aspettatemi!